Non ho capito che questa situazione è attuale, non ho fatto contatto con il ministro al rispetto, ma è la nostra confermazione che è accionata in questo paese e mi chiede che sa che l'altra è obdraga con la duna signora Hasselt e per la quale è la situazione che guarda la nostra costa. Non sa che la problematica di illegalità arriva nel nostro paese, è qualcosa di immensamente grande e preparate il giorno all'azurato e ci hanno presunto come ilegali. Abbiamo anche nella ruba, durante la fede news che si è la fase di oggi e ci hanno usato in quanto gente ha avuto l'azurato nel nostro paese, per l'azurato, è un problema che ci sono attacchiate con la mano dura e mi chiede che poco a poco Il ministro è arrivato, e si è arrivato, e ha un protocollo di Simon Werkins, e si è arrivato a un accordo, come si è arrivato a firmare un protocollo, e si è partito, quando si è arrivato a lavorare, si è arrivato a un accordo con un altro, non si è arrivato a un altro, e si è arrivato a delineare il protocollo, e si è arrivato anche. Alla prossima è arrivato, e c'è un certo malcontento, di un certo personale di migrazione, di un certo personale di Guarnascosta, di un certo punto, e anche i altri KPA, e il nostro departamento, di un certo punto, che si è arrivato a fare uso di articoli, per aver guardato, per combattere la criminalità di ilegalità, e la criminalità di ilegalità di ilegalità, e la criminalità di ilegalità di ilegalità di ilegalità, Grazie a tutti